Boy, give me five è vivo ed è con noi Boy George Boy George, diciamo appunto, io spiego I speak to family, Italian family who is Boy George you know what I mean baby? allora, Boy George una volta era Boy George veramente una volta era veramente conciato per le feste è stato veramente lui la prima vittima del look anche l'apparenza uccide oggi invece in 4 e 4 e 8 Boy George solo chi cade poi risorge e quindi oggi Boy George è tornato a rivivere con noi e lo presentiamo veramente oggi un ragazzo tranquillo come potete notare una giacchettina da impiegato questa se la mette Costanzo una giacchettina di questa qua e adesso lui è tornato veramente ad essere un ragazzo di cui qualsiasi famiglia si può affidare finalmente noi in Italia abbiamo capito che il rock non è questo baobau è che un Christian vale uno Sting e compagnia varia Boy George ti vado a dire Boy George sei sei sammettito di Italian people e sei hello vado io you need to go on the diet no adesso invece noi dobbiamo iniziare a presentare il nuovo disco new record of Boy George by Boy George eccetera eccetera il nuovo record baci kiss lui bacia che è una meraviglia bacia e soprattutto questa nuova canzone si intitola si intitola un po' triste un po' triste si chiama Don Cry cioè non piangere ma state sicuri che con George non piangerete vi strapprete veramente i capelli Boy George chiusa 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.